Io ho preparato una lunga introduzione, come vedete, molto sostanziosa dal punto di vista intellettuale, ma non la leggerò tutta, vi voglio rassicurare subito. Il professor Giorgio Manzi è noto per tanti motivi. Uno è che si è occupato a lungo delle attività museali delle nostre università. In questo è stato un faro per il nostro Paese e lo posso dire perché a Torino ho la fortuna di frequentare Giacomo Giacobini, che è un'altra persona molto interessata a questo tema, e so che ha avuto in Giorgio Manzi uno straordinario collaboratore. Ed è anche grazie a lui, grazie a Giacobini, se ho potuto conoscere Manzi una volta nell'aula di anatomia dell'Università di Torino. è un paleoantropologo, ed è un mestiere strano per lui, perché viene da una laurea in scienze naturali, credo, in biologia. Quindi, per carità, certamente la paleoantropologia sta dentro la biologia, però è una specializzazione molto particolare e che ha dato luogo nel corso dei suoi sviluppi come disciplina a un'infinità di controversie. Sappiamo che, almeno all'inizio, il racconto delle origini dell'uomo è stato un racconto mitologico o religioso, e poi gradualmente, ma molto gradualmente, si è trasformato in un racconto scientifico. Un racconto scientifico che è in pieno sviluppo. Non possiamo considerare che poche acquisizioni definitive, altre vengono ancora messe in discussione, altri argomenti, soprattutto, si aggiungono. Adesso, in particolare, che comincia a essere disponibile il cosiddetto DNA antico, per cui si possono studiare le caratteristiche genetiche dei nostri predecessori, con una capacità di penetrazione che fino a pochi anni fa era assolutamente insperata e impossibile. Allora, io ho usato una parola, professor Manzi, che è racconto, ma è una parola che ha usato anche lei in un suo libro. Quella delle nostre origini è un racconto. Beh, questo potrebbe dare un'idea di approssimazione, o comunque di integrazioni della fantasia in questa narrazione. E però io vorrei anche dire che tutta la scienza passa attraverso un momento di racconto. Anzi, anche la scienza consolidata, quando noi la comunichiamo come divulgatori, diventa racconto. Quindi, intanto vorrei sgomberare il campo dalle possibili interpretazioni sbagliate di questa parola. racconto, ed è un racconto che non ha ancora, e forse non avrà mai, una conclusione. L'ultimo capitolo, chissà quando e se verrà mai scritto. Allora, professor Manzi, come siamo passati dalla mitologia e dalla religione, che è quasi parallela, al racconto fantastico, ma ancora pseudo-scientifico, ma già con intenzioni scientifiche, delle origini dell'uomo, e infine a questa fase scientifica. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per questa introduzione. E effettivamente, sì, la curiosità per le nostre origini, ce l'abbiamo sempre avuta, no? È la curiosità di tutti, da che l'uomo è uomo, come direbbero i siù, da che i prati sono verdi, da che i cieli sono azzurri, abbiamo questa curiosità di capire quali sono le nostre origini. Però qualcosa di profondo è cambiato negli ultimi secoli. Tutte le popolazioni del mondo e anche noi stessi europei ci siamo fatti dei racconti delle origini basati su ricostruzioni spesso mitologiche, fantastiche. La scienza, a partire dal Settecento, ma soprattutto dalla metà dell'Ottocento, ci ha dato la possibilità di ricostruire una narrazione, perché comunque è una narrazione, cioè comunque è un racconto, come diceva lei. Il racconto delle nostre origini è comunque la ricostruzione di un percorso che nessuno ricorda, perché nessuno era presente, non ci sono documenti diretti, ma una quantità di documenti indiretti, di evidenze, come si diceva nella chiacchierata di mezz'ora fa, che ci consentono di ricostruire in modo scientifico e con i metodi della scienza, quindi avendo delle ipotesi da mettere al vaglio di un approccio sperimentale, ci permettono di ricostruire con una quantità di dettagli ormai quello che è stata la nostra storia. Quindi dal racconto delle origini possiamo passare a un racconto scientifico delle origini. Sempre il racconto è, sempre una ricostruzione che ci piace ascoltare, perché è la narrazione di chi siamo, alla fine, perché attraverso la ricomposizione delle nostre relazioni con gli antenati ricostruiamo anche le nostre relazioni con la natura. però a questo punto possiamo dire che è basato su solide basi scientifiche. Ecco, tra queste basi scientifiche ci sono naturalmente i ritrovamenti di fossili, di ossa fossili dei nostri antenati, più o meno lontani. Ma è vero che alla fine, mettendo insieme tutti questi reperti, non è che siano tanti, starebbero tutti in una stanza o poco più? Beh, sì e no. Diciamo che negli ultimi decenni la situazione è molto cambiata. Effettivamente in una grande stanza con scaffali, fino a qualche decina di anni fa avremmo potuto raccogliere tutto il bagaglio di informazioni, tutti i dati, quindi di fatto tutti i fossili che abbiamo a disposizione per ricostruire l'evoluzione umana. Oggi non è più tanto così, perché ci sono dei siti scoperti negli ultimi proprio decenni o addirittura negli ultimi anni che hanno restituito migliaia. Solo i singoli siti hanno restituito migliaia di fossili e quindi ormai effettivamente abbiamo degli spot di luce sono fossili ripetitivi in qualche modo, però sono tutti appartenenti a una certa epoca. Certo, sì. Non so, possiamo fare due o tre casi. Forse il più vicino a noi è il caso della Sima dello Suessos, che è un sito in Spagna. Siamo nel nord della Spagna, lungo il Cammino di Santiago, dove c'è la cittadina di Burgos. La città di Burgos è un bellissimo posto, un cattedrale spettacolare e a una dozzina di chilometri c'è questa Sierra de Atapuerca, che è una collina apparentemente insignificante. I pellegrini che si muovono lungo il Cammino di Santiago appena la notano sulla loro destra. In realtà questa collina è piena di siti preistorici. Vari riempimenti delle cavità carsiche di questa collina scavati hanno restituito fossili umani in quantità. Soprattutto in alcune fasi dell'evoluzione umana in Europa e in particolare la Sima dello Suessos, che come dice il nome è appunto il Pozzo delle ossa, è una grotta all'interno di un sistema che si può percorrere solo attrezzati con caschi da speleologi e si arriva lì in fondo a questo pozzo di 14 metri che è pieno di fossili umani di 400.000 anni fa. Appartengono a una specie che chiamiamo Homo heidelbergensis, un antenato dei Neandertal e sono i resti scheletrici di una trentina di individui, che vuol dire migliaia di fossili. Certo, come diceva lei, questi sono fossili che appartengono non solo a una stessa specie, ma addirittura forse a una stessa popolazione, magari diluita nel corso di alcuni decenni o forse secoli, raccolti tutti insieme come se fossero una sorta di fossa comune. Ma è tanta roba. Solo per quelli esiste una sala con casseforti che li conservano a Madrid, ma si sta trasferendo proprio lì a Burgos, perché a Burgos hanno creato il Museo dell'Evoluzione Umana e anche un centro di ricerca dedicato solo alle ricerche sull'evoluzione umana e lì si stanno per spostare tutti questi fossili che da soli, solo per questo sito, riempiono una stanza. Ecco, questo che... che ci ha detto il professor Manzi, che per inciso è professore all'Università della Sapienza di Roma, ci ha anche ricordato che la paleoantropologia si fa sul campo e Manzi l'ha fatta in Spagna, l'ha fatta in Tanzania, in Etiopia, in Libia, l'ha fatta a Ceprano, ad Altamura. e quindi è un lavoro in gran parte anche proprio manuale, sperimentale, è così? Assolutamente, è anche un po' il fascino di questo lavoro. Noi partiamo dalla terra sporcandoci le mani nei sedimenti più o meno antichi e poi arriviamo però nei laboratori ormai attrezzati con mezzi assai complessi e sofisticati. Lei citava prima la possibilità di estrarre il DNA e questo sappiamo che comporta appunto degli attrezzatori molto specializzati ma anche la stessa morfologia, lo studio delle forme dei fossili oggi è diventato qualcosa di altamente tecnico, si può fare con potenti computer che acquisiscono informazioni magari da delle tocomografie computerizzate quelle che abitualmente chiamiamo TAC e consentono poi di esaminare queste forme in tre dimensioni e magari di restituirne una copia sul tavolo attraverso una stampante 3D. quindi è tutto molto più complicato e poi ultimo passaggio per completare il cerchio dalla terra passiamo a questi laboratori altamente specializzati per arrivare a quello che prima chiamavamo il racconto perché su tutto questo dai dati di terreno a quelli di laboratorio si costruisce poi appunto qualcosa che diventa un modello interpretativo il racconto di cui parlavamo prima che però in quanto tale è un modello un'ipotesi di lavoro che dovrà essere sottoposto a nuovi studi cioè a nuove campagne di scavo a nuovi laboratori e così via quindi una trama sempre in fieri mi sembra di capire che c'è un aspetto romantico che è scomparso nel vostro lavoro però perché una volta era un lavoro un po' da investigatore si trovava magari un dente un pezzo di una mandibola e si cercava di capire da quel frammento come era l'insieme dell'organismo a cui apparteneva e quindi c'era forse anche molta immaginazione in questo o comunque c'era una linea scientifica che si seguiva ma su un percorso molto friabile molto incerto oggi non è più così cioè questo aspetto investigativo è anche un po' romantico è venuto meno non direi non direi io penso che l'aspetto investigativo è romantico un po' alla Sherlock Holmes è rimasto il punto è che di dati ne abbiamo talmente tanti che i conti li dobbiamo far tornare tra elementi che vengono dall'archeologia elementi che vengono dalla morfologia dalla geologia dalla botanica e dal DNA dai dati genetici quindi abbiamo una quantità di dati che diventa sempre più difficile mettere insieme però i conti devono comunque tornare e comunque c'è un'indagine certo e in questa indagine c'è anche una componente artistica a volte cioè voi avete trovato una serie di di espressioni che noi possiamo considerare artistiche già in epoche remotissime ah sì in questo senso sì beh sì l'arte l'arte compare tardi nell'evoluzione umana ma abbiamo capito che possiamo andare sempre più indietro nel tempo a ricercarla l'arte che cos'è in fondo è la rappresentazione di qualcosa che non serve direttamente per sopravvivere quindi non è il manufatto di pietra che serve per scuogliare un animale ma è qualcosa che serve per far funzionare meglio quel mondo di pensieri e di simboli che abbiamo dentro la testa e l'arte effettivamente è qualcosa che compare con la comparsa di nostri antenati che avevano ormai un grande cervello ma non necessariamente ancora erano sapiens cioè non del tutto appartenenti alla nostra specie effettivamente fino a qualche anno fa si sarebbe potuto affermare con una certa sicurezza che le prime manifestazioni d'arte siano quelle dei primi homo sapiens cioè quelli a cui possiamo mettere sotto l'etichetta identica a quella che metteremo sotto noi stessi mentre abbiamo diverse evidenze che dei barlumi di pensiero simbolico quindi di manifestazioni artistiche ci fossero anche in alcuni nostri possiamo chiamarli parenti estinti non per forza antenati per esempio in Neandertal in alcune in alcuni siti neandertaliani sono state individuate delle qualcosa che possiamo in qualche modo riferire a questa sfera ritengo che siano veramente come dei barlumi delle prime dei primi passi in questa direzione effettivamente poi con homo sapiens questo mondo di simboli esplode letteralmente con la comparsa delle forme che noi chiamiamo anatomicamente moderne compare anche una cultura moderna nel senso la capacità di trasmettere e accumulare conoscenze di generazione in generazione tanto che di generazione in generazione si è sempre seduti si è seduti sempre più su spalle di giganti che ci hanno preceduti mentre nei Neandertal o nei nostri antenati negli antenati che abbiamo in comune con i Neandertal tutto questo è ancora un po' embrionale però delle tracce effettivamente ci sono ecco adesso allora professor Manzi le lancio una sfida questo racconto delle origini dell'uomo dal punto di partenza al punto di arrivo in cinque minuti proviamo sì sì beh le slide che avete visto sullo sfondo ci potrebbero aiutare di più ma diciamo in due minuti che quello che abbiamo capito negli ultimi decenni è una cosa innanzitutto cioè che l'evoluzione umana non è una successione di specie una pressa all'altra questo penso che molti dei presenti lo abbiano già ben presente ma è una storia altamente ramificata no è un quello che molti chiamano oggi il cespuglio ed effettivamente questo cespuglio si vede sin dall'inizio quindi non un albero ma un cespuglio questo è il primo non una sequenza lineare e forse neanche un albero ma addirittura un cespuglio l'idea di cespuglio a me non è mai piaciuta molto perché può dare l'idea di origini plurime del presente e quindi non va inteso in questo senso da questo punto di vista la nostra storia è un albero cioè c'è un tronco ci sono delle ramificazioni e da un tronco più alto di tutti c'è la chioma che siamo tutti noi 7 miliardi e mezzo di individui oggi presenti sulla terra però il cespuglio l'idea di cespuglio è utile per capire soprattutto i primissimi passi della nostra storia noi pensavamo fino a un po' di anni fa che le nostre origini più remote parliamo di 5 6 7 milioni di anni fa e parliamo dell'Africa orientale piccola parentesi anche 5 milioni di anni fa è un tempo brevissimo rispetto a quello dell'evoluzione della vita che diciamo 3 miliardi e mezzo di anni per arrotondare quindi stiamo veramente parlando se paragonassimo a un anno l'evoluzione stiamo parlando degli ultimi stiamo parlando verso la mezzanotte ecco stiamo parlando degli ultimi minuti del 31 di dicembre quindi 5 milioni di anni fa eravamo 5 milioni di anni fa si pensava che come se fosse proprio una Y che si biforca da una parte se ne andassero gli antenati degli attuali scimpanzei dei gorilla le scimmie antropomorfe africane e dall'altra cominciasse inesorabilmente la storia dell'evoluzione umana e l'albero di cui abbiamo parlato in realtà sempre più dati ci indicano che lì ci fu un cespuglio di non di antenati ma di creature bipedi che assomigliavano a quello che poi sarà davvero l'antenato quindi l'albero c'è però in mezzo ad altri alberelli che stavano nascendo e che poi non si sono sviluppati questo sembrerebbero indicare i dati che ormai abbiamo raccolto negli ultimi vent'anni grossomodo dalla metà degli anni 90 in poi su una serie di creature che fino appunto al 94 95 non conoscevamo proprio e che hanno già dei nomi belli e fatti addirittura di genere specie Ceylanthropus Chadensis Horrorin Tuganensis Ardipithecus Cadabba Ardipithecus Ramitus e poi anche il primo degli Australopitesi cioè l'Australopithecus Anamensis che è una forma ancestrale alla specie di Lusi tutti questi sono localizzati nell'Africa orientale soprattutto tra Etiopia e Kenya con una divagazione verso il Chad che è un po' più verso l'Africa centrale e sono tutte creature comprese tra 7 milioni e 4 milioni di anni dal presente e tutti i bipedi ma non è detto che siano stati tutti i nostri antenati è possibile che siano stati diversi tentativi adattativi nel senso del bipedismo cioè dei tentativi di adattarsi a un ambiente misto tra foresta e spazi più aperti tra i quali soltanto uno di questi personaggi della nostra storia iniziale poi ha iniziato quel percorso che è diventato l'albero dell'evoluzione umana quindi veramente tanti arbusti di cui uno poi si robustisce e diventa e all'inizio di questo arbusto quindi chi collochiamo potremmo collocare forse quel cranio che è stato scoperto 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 alcuni anni fa ma noto a tutti perché ne hanno parlato tutti i media due o tre settimane fa che è finalmente il cranio non ne avevamo prima di questa specie chiamata Australopithecus anamensis siamo intorno adesso per fare una cifra tonda a 4 milioni di anni in realtà questo cranio ne ha 3 e 8 3 milioni 800 mila ed è finalmente l'immagine chiara l'immagine è della specie che è ancestrale precedente alla specie di Lucy che come molti sanno si chiama Australopithecus afarensis poi non sciogli lingue in latino ma insomma Australopithecus anamensis sta per lago anam è una lingua in lingua turcana significa lago e di fatti i primi fossili di questa specie furono trovati intorno al lago turcana afarensis invece è la terra degli afar cioè delle popolazioni afar che sono un po' più a nord ma siamo appunto tra il nord del Kenya e l'Etiopia settentrionale per cui siamo più o meno sempre nella stessa area dove si susseguirono queste primissime specie di Australopithecus e poi e poi da queste specie di Australopithecus che appunto rappresentano un po' il tronco dell'albero vero assistiamo a una ramificazione iniziale una ramificazione importante quella che con linguaggio tecnico della biologia evoluzionistica si potrebbe chiamare una radiazione adattativa cioè qualcosa che ha funzionato di fondo ce deve essere stato e pensiamo che questo qualcosa sia stato appunto il bipedismo e l'acquisizione della postura retta della locomozione bipede ha funzionato davvero a tal punto da produrre una varietà di australopiteci e in questa varietà di australopiteci a un certo punto ne compare uno che incomincia a produrre dei manufatti sono passati milioni di anni nel frattempo un paio almeno da quattro siamo arrivati a circa due e troviamo nella documentazione fossile non soltanto delle varianti di australopiteco strane sono bipedi come gli altri hanno i denti particolari come li abbiamo un po' noi ma soprattutto incominciano ad avere una testa un pochino più grande sono tutti carnivori questi? carnivori e frugivori? no diciamo che la dieta di questi nostri antenati doveva essere un po' come in molte specie dei primati abbastanza varia però mentre uno scimpanzè e un gorilla sono eminentemente frugivori e folivori ma soprattutto frugivori cioè mangiano soprattutto frutta i nostri primissimi antenati quelli di cui parlavamo prima i primi bipedi probabilmente si sono spostati verso una dieta più coriacea quindi magari più erbe più semi più radici non disdegnando magari ogni tanto anche qualche piccola preda animale ma poi proprio nel momento di cui stavamo per parlare poco fa cioè la comparsa di questi strani personaggi tipo australopiteco ma con un cervello un pochino più grande e con dei manufatti del paleolitico tra le mani qua la dieta si sposta decisamente verso un'area più da carnivoro c'è un cambiamento importante che è dettato dalle condizioni ambientali non c'è più la foresta a chiazze dove che era stato il teatro dei primi passi dell'evoluzione umana ma iniziano ad aprirsi questi spazi di savana e questo alternarsi stagionale molto marcato e in certe stagioni dell'anno bisogna specializzarsi necessariamente non c'è più il cibo comodo della foresta o addirittura non c'è proprio cibo tant'è che proprio in quella fase dell'evoluzione umana noi assistiamo a una grande divaricazione specializzazioni alimentari molto forti una di queste è uno spostamento verso una dieta più carnivora da qui la produzione dei manufatti per attrezzarci di qualcosa che assomigli a dei canini sporgenti che non abbiamo a degli artigli che non abbiamo è qualcosa che cambia di profondo da tanti punti di vista perché questa dieta più ricca di proteine animali è una precondizione perché si possa investire molto nello sviluppo del cervello perché si risparmia a livello intestinale cioè c'è un metabolismo nuovo che si instaura inizia il paleolitico quindi inizia proprio la storia dei toolmakers dei produttori di manufatti che non è certo ancora appunto il mondo delle culture da sapiens che verranno molto dopo però è l'inizio di tecnologie che che ci ricordano quella famosa scena dell'inizio di 2001 di Sena allo Spazio e poi inizia soprattutto un cambiamento totalmente che potrei definire epocale riguardo alla nostra collocazione ecologica cioè nel senso che le australopitecine cosiddette lusi e tutti gli altri erano fondamentalmente dei consumatori cioè avendo una dieta prevalentemente vegetariana di fatto si collocavano abbastanza in basso nella piramide alimentare mentre con il passaggio a una dieta più carnivora è come se fossimo saliti saliti di livello a livello proprio ecologico e questa ascesa se così la vogliamo chiamare ha comportato anche una serie di conseguenze nel rapporto tra le popolazioni umane anche se stiamo parlando di uomini primordiali e l'ambiente per vivere di caccia e raccolta non si può essere tanti nel territorio c'è bisogno di uno spazio e questo ha comportato a cascata la tendenza di questi primi uomini a fare qualcosa che vediamo ancora oggi cioè la tendenza dell'uomo a migrare a diffondersi geograficamente proprio per per il successo che questa nuova strategia ha avuto ma per la necessità che questa strategia richiede di essere relativamente pochi perché la piramide alimentare viene disegnata come tale proprio perché quando si passa dalle piante ai consumatori di piante ai consumatori di animali sempre più specializzati la piramide si stringe questo vuol dire che la biomassa è sempre più contenuta lo vediamo nei documentari quando ci sono queste sterminate mandrie di erbivori e il piccolo branco di leonesse da una parte ricordiamo che la vegetazione il mondo diciamo la biomassa è al 98% vegetale cioè la base della piramide è estremamente stesa noi non ci rendiamo conto che questo in realtà è il pianeta delle piante cioè sono loro che hanno conquistato il pianeta il 98% della biomassa è vegetale e poi la piramide rapidamente si restringe e noi salendo in questa gerarchia se così la vogliamo chiamare abbiamo anche avuto la necessità di essere relativamente pochi in uno stesso territorio ma le nostre gambe e la nostra capacità adattativa ad ambienti diversi hanno consentito una diffusione geografica quindi per essere pochi sullo stesso territorio ma al tempo stesso essere tanti visto il successo adattativo la soluzione è stata quella di espandere sempre più il nostro areale e questo si vede si vede nella documentazione fossile perché è proprio intorno a questa data abbiamo detto due milioni di anni fa che incominciamo a trovare nostri antenati non più solo in Africa orientale ma anche in altre parti dell'Africa e poi in Asia famoso per qualcuno che conosce meglio questi argomenti il sito di Dmanisi in Georgia che è il primo sito importante dove si trovano forme di nostri antenati fuori dall'Africa e poi addirittura fino all'isola di Java in Estremo Oriente o poi qui anche in Europa mentre Sapiens quando compare ora questo che abbiamo appena descritto è lo scenario della diffusione del genere omo tante specie di omo compaiono in questo scenario dai primi omo in Africa ai tanti omo c'è proprio ora l'immagine delle ricostruzioni che vengono fatte dai due famosi paleoartisti olandesi Adri Alphonse Kennis che rappresentava appunto la varietà delle specie umane distribuite nel corso degli ultimi due milioni di anni in varie aree dell'Eurasia e dell'Africa in questa varietà di omo a un certo punto compare anche omo sapiens ma molto dopo quasi alla fine della storia se abbiamo parlato di due milioni di anni per fare una cifra tonda adesso parliamo di duecentomila anni per fare una cifra ugualmente tonda ma con un paio di zeri di meno quindi siamo quasi a mezzanotte a questo punto nel nostro anno biologico mezzanotte del professor Manzi lei ha scritto molti libri soprattutto ne ricordo due per il mulino il grande racconto dell'evoluzione umana che è quella a cui alludevo prima e le ultime notizie sull'evoluzione umana anche del 2017 poi lei lavora come divulgatore anche sulle scienze sui giornali quotidiani come il Corriere della Sera sono solo 24 ore quindi mi permetto di farle una domanda fuori delle righe che si può fare a un divulgatore forse ma non a uno scienziato quando nasce il senso dell'umorismo? il senso dell'umorismo? beh il senso dell'umorismo io ritengo che sia qualcosa che ha molto a che fare con il discorso che facevamo prima a proposito del pensiero simbolico quello lì è quello che manca o quello che benissimo siamo sull'umorismo quindi chiuderemo divertendoci esatto e io lo collegherei molto al pensiero simbolico perché di simbolo in simbolo si può anche fare dei simboli ingannevoli perché l'umorismo spesso è basato su un piccolo inganno abbiamo sentito prima Piff che ci ha svelato un miracolo della Madonna attraverso le opere del santo Salvini ed è un po' quello l'umorismo diciamo così fare un racconto che arriva a una conclusione per una via non prevista quando il racconto incomincia esattamente l'ultimissima cosa perché abbiamo due minuti due e le chiederei qualche cenno alla nostra interazione anche sessuale abbiamo parlato di umorismo adesso addirittura scendiamo nel sesso con l'uomo di Neandertal saliamo nel sesso saliamo dunque ehm eh sì no tutti sanno insomma che qualche scappatella c'è stata no? nel senso che quindi Sapiens non disdegnava che effettivamente tra è vero che erano soprattutto le Neandertal ma su questo si discute molto su questo si discute ancora da appurare siamo partiti dalla curiosità allora risolviamo questa curiosità e chi siano le vere diciamo come possiamo chiamarle ma il è un argomento molto importante molto interessante che tra l'altro sta creando un po' di scompiglio anche tra gli addetti ai lavori perché insomma sapete apposta l'ho tirato fuori come? apposta l'ho tirato fuori sì esatto perché come sapete appunto da alcuni anni abbiamo capito almeno pensiamo di aver capito dal DNA che tra la specie Homo sapiens che ormai è comparsa in Africa e si sta diffondendo e i Neandertal e altre specie umane che sono presenti nello scenario soprattutto euroasiatico ci sono stati degli incroci quindi eventi diciamo storie d'amore più che incroci storie d'amore mettiamola così mettiamola sul poetico per cui dei figli frutto di questo amore sono rimasti capaci a loro volta di riprodursi altrimenti noi non avremmo nel nostro genoma quelle piccoli brandelli di DNA dei Neandertal quanto è un qualche per cento? è il 2-3 per cento di una parte del nostro genoma e ce l'abbiamo quasi tutti questo 2-3 per cento anche se ognuno ne ha un pezzetto diverso ma questa è un'altra storia cioè complica un po' troppo il discorso ora questa ibridazione che secondo me è un bellissimo esempio di ibridazione tra specie diverse che è un bellissimo esempio di ibridazioni tra specie diverse non da tutti viene capita nella sua importanza nel suo significato ma sta creando appunto tali turbamenti che alcuni incominciano a dubitare della sensatezza proprio dello stesso concetto di specie che è una sciocchezza cioè questo vuol dire aver considerato il concetto di specie qualcosa di monolitico e inossidabile mentre sappiamo tutti che il concetto di specie ce lo siamo inventato noi l'inneo per la precisione ne ha proposto la sua definizione precisa ma semplicemente per mettere un po' d'ordine nella varietà della natura ed effettivamente le specie esistono perché esistono delle barriere tra una specie e l'astra ma di solito non è un paradigma così preciso non è un paradigma la biologia non è la fisica delle particelle insomma dove finisce il protone e comincia un'altra particella qui non è così esatto e sappiamo benissimo che esistono molte eccezioni alla regola per esempio tra i babbuini per parlare di animali molto vicini a noi altre scimmie che appunto in una certa area dove due specie si toccano geograficamente si incrociano e ciò nonostante le due specie rimangono separate una parziale sovrapposizione io trovo invece che questo sia un bellissimo esempio di come la paleantropologia oggi riesca a descrivere fenomeni naturali con una dovizia di dettagli che fino a poco tempo fa erano impensabili e che oggi invece appunto con metodi scientifici riusciamo a ricostruire e siamo arrivati alla frontiera e anche alle incertezze che ci sono sempre sulla frontiera di cui è bene essere consapevoli grazie grazie a Giorgio Manzi grazie a tutti voi grazie a tutti